buon pomeriggio da giudisarno e benvenuti all'emigrante una puntata pre natalizia spettacolare l'ospite di oggi è una chef designer lei dice che viene dal regno delle due sicilie in realtà è vero diciamo che viene da Napoli e da Mergellina il posto più bello del mondo sono di parte è con me Fabrizia Ventura ciao Fabrizia l'applauso dello studio l'applauso anche di Valentina che abbiamo dall'altra parte alla regia e la salutiamo e la ringraziamo oggi tutto al femminile una puntata speciale non so se riusciamo già a vedere questi oggetti meravigliosi che mi hai portato perché l'emigrante si svolge attraverso il racconto appunto di una persona che ha lasciato la propria terra per cercare fortuna per studio per lavoro insomma per tante tante le motivazioni possono essere tante e oggi è portato degli oggetti particolari da un coltello molto pericoloso a delle scarpe bellissime un cappello da chef e così piano piano andiamo a conoscere più nei dettagli la tua vita tu sei pronta per questa sorta di interrogatorio io sono prontissima sono pronta a tutto che poi lei è stata precisa perché io chiedo una scheda agli ospiti e lei è stata una delle poche precisa 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 mi ha risposto precisamente a ogni domanda sono impegnata sei stata molto brava ma sei anche così precisa nel nel tuo lavoro moltissimo dicono che io sia tedesca tedesca quando ho lavorato su in tirolo mi hanno detto sei più tedesca di noi e che quanto dire però con la creatività della parte partenopeano e poi mettiamo subito la prima fotografia andiamo subito a vederla così da lì partiamo e questa è la foto una guardati lì è la tua foto ufficiale sì che momento è e dove è una foto fatta a praga 2019 dove ho aperto un ristorante con un italiano è una società italiana e cieca all'interno ho portato una brigata italiana perché il ristorante era con ovviamente piatti italiani un ristorante esclusivamente di pesce è una zona diciamo a 20 minuti dal centro di praga e ho lavorato lì con diciamo una popolazione che non mi aspettavo che fosse come i napoletani perché mi hanno accolto caldi assolutamente sì ero lì tutti i mesi e poi qua mi hanno fatto un quindi dirigevi e basta l'hai aperto la start up quando facciamo le start up noi guardiamo soprattutto per quanto mi riguarda anche come l'arredamento il format generale quindi se è un format di pesce quali devono essere i piatti lo studio del menù la costruzione dei piatti e ovviamente anche poi le foto dei piatti che gli altri dovranno replicare quando lo chef l'executive non c'è va via quindi rimane quanto dura questo processo è dura qualche mese diciamo che c'è una costruzione soprattutto se il locale in costruzione quindi c'è anche lo studio del colore delle pareti ma del tovagliato beh quello è quanto diciamo mi compete perché il fatto di essere chef designer certo è proprio il 360 la parola stessa già progettato ma vogliamo parlare napoletano no no un po un po andiamo avanti con un'altra foto vediamo che hai messo io ti ho dato una marea di foto sì perché qui dobbiamo tornare indietro e partire da capo vabbè di chi è questa bella diciamo che mi somiglia cioè io somiglio a lei questa è la mia nonna paterna delia è quella di cui ho portato le ricette che abbiamo sul tavolo li facciamo vedere ed è la nonna che mi ha avvicinato alla cucina delia praticamente non so se riusciamo a vederle bene altrimenti le tolgo aspetta una sola la tocco su attenta perché sono le ricette che io guardavo da bambina perché lei miticolosamente annotava tutto io la guardavo e passavo tantissimo tempo con lei diciamo che i primi tortellini le ho fatti con con la nonna marchigiana marchigiana e di fabriano e papà quindi anche nato a fabriano però il nonno paterno invece era bolognese quindi si sono nata a mergellina ma diciamo c'è una un dna fusion belli che ricette sono queste ma sono di tante cose c'è la crema c'è poi ci sono delle ricette che sono sia marchigiane poi sono quelle bolognesi perché il nonno voleva quindi la mamma del nonno faceva dare le ricette bolognesi a mia nonna perché chiaramente completa sotto questo aspetto cioè per abbracciare la cucina da nord a sud anche di tradizione centrale diciamo che già in famiglia comunque io devo assecondare tutti i vari gusti tutte le regioni di appartenenza perché soprattutto nel periodo delle feste ognuno chiede la sua dopo noi cerchiamo anche di dare un consiglio una ricetta per natale insomma manca un giorno vediamo un'altra foto anno c'è una musica che canzone vediamo un po che cosa hai scelto e perché hai scelto questo brano questa è una canzone ci vorrebbe un amico come mai hai scelto questo brano perché è una canzone che mi ricorda i miei 18 anni mi ricorda tutti gli amici che insomma erano venuti a questa mega festa che c'è stata la festa in lungo con l'abito lungo che è una classica festa di 18 anni e io ho cantato questa canzone a cui ero legata perché la cantavamo insomma quando andavamo in gita il mestiere pure di cantante è meglio te lo faccio fare lo lascio a te perché ufficialmente infatti la registrazione della mia cantata non credo ci sia beh sei intonata almeno quello dai il coro della chiesa andavo bene c'è un'altra foto eccolo l'ho visto lui è il il nonno il nonno il marito di quella nonna lì quello che voleva i tortellini quello che voleva i tortellini ed era un grande avventatore qui è molto magro però poi non era molto abbondante diciamo che io non l'ho mai conosciuto era un disegnatore industriale giuseppe ventura e dicono che tutta la mia parte creativa e anche però la parte ingegneristica dipende da lui e qua sono guarda nella prossima nella prossima foto c'è proprio loro due molto in carne come il mio papà che è molto molto piccolo ed era figlio unico di genitori figli unici quindi noi abbiamo una famiglia che non ha tutti questi parenti quindi per essere tu una napoletana anche se secondo generazione sei atipica sono atipica non hai 7 8 fratelli 7 8 zii c'ho solo una sorella siamo molto una una famiglia un po un po ristretta però diciamo che le tradizioni abbiamo preso un po con le napoletane ma siamo un po nordici anche in famiglia un'altra foto ha proprio le hai prese tutte talmente belle poi io amo queste foto allora 1954 anche se non mi appartengono ecco 1954 è sempre lei che sta accanto a mio padre è sempre stata molto 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 legata sono stati io stavo sempre con lei come papà stava con lei e mi ricordo il mattarello e ha vissuto anche un periodo con noi e mi ha trasferito diciamo questo aspetto e di cucina ma anche di organizzazione questa parte più ecco nordica dipende un po dalla dalla nonna e sono delle foto che non vedo spesso quindi fanno un po fanno un po effetto anche perché sia sia lei che papà non ci sono più tu mi hai detto che papà è venuto a mancare da poco si sono quasi due anni che è venuto a mancare è stata una figura io mi chiamo fabrizia perché papà e mamma volevano un maschio e poi è stata fabrizia sei la prima figlia sono la seconda è stato diciamo papà voleva assolutamente questo maschio però sono nata io e mi hanno un po cresciuto anche facendomi fare cose da maschio infatti poi faccio lo chef e anche se questo non era il mestiere che pensavano fosse per me cosa avrebbero voluto ma loro hanno pensato per me una carriera di studi poi fin da quando ero piccola hanno detto che io avevo una una capacità creativa e quindi disegniamo sempre mi hanno detto forse potrebbe fare il liceo artistico e quindi mi hanno fatto fare il liceo artistico e comunque è una scelta che comunque mi hanno fatto fare anche a me ho fatto questo liceo artistico e poi sono andata avanti e mamma non mi ha voluto far fare la cadena di belle arti perché in qualche modo però poi ti è servito ti è tornato assolutamente sì ho fatto una laurea in storia dell'arte e tutto il percorso che ho fatto è stato un percorso soprattutto nella parte finale con la tesi perché sarà una tesi di ricerca con quattro tomi di tesi e quando sono andata alla discussione della tesi mi hanno detto non c'era bisogno che portate queste copie veramente è soltanto una sola e poi niente questa laurea mi ha servita perché tutto quello che ho studiato e anche tutta l'attività di ricerca che ho fatto mi ha servita perché l'ho messa poi nella passione di cucina nelle specializzazioni che ho preso e quando è nato e scattato hai detto io questo è il mio mestiere quando ho capito che le persone mi chiamavano per fare determinate cose io avevo questa passione per la cucina e lavoravo dentro le cucine anche se non avevo fatto un istituto alberghiero come un percorso normale di questo questo per far capire che a volte sì il percorso giusto aiuta in un certo senso però non vuol dire niente perché tu ti puoi scattare anche la molla a un certo punto e decidi di farlo e lo fai in migliore dei modi secondo me è un percorso che si sviluppa proprio di crescita quindi si capisce quale sia la propria strada e questo è il percorso che si fa quando si fa della propria passione il proprio mestiere che è la cosa più bella che ci sia e credo che ancora c'è tanto da crescere e tanto da migliorarsi però è un settore dove in questo momento soprattutto c'è grande spazio per la creatività per la comunicazione si può dire che i chef i cuochi in generale la cucina in questo momento sta vivendo quello che hanno vissuto le modelle negli anni 90 sai di modelle non ne so tanto il massimo della popolarità diciamo la modella negli anni 90 quando c'era la Schiffer la Bellucci Naomi Campbell era il periodo importante cioè le modelle erano diventate delle star mentre le modelle né prima né dopo c'è la modella ha indossato un vestito ed è un oggetto sta lì a servizio del vestito invece in quegli anni la modella aveva preso il sopravvento adesso lo chef adesso da un po' di tempo e tu mi dai conferma se è così da un po' di tempo lo chef è diventato una star e molti ragazzi sono anche abbagliati da questo ecco ecco ho toccato un tasto hai toccato un tasto che dunque io sono docente di alberghiero soprattutto in scuole che hanno una una grande storia di formazione e come l'alberghiero di amatrice o il safielis e dico sempre ai ragazzi perché io credo che la nostra sia una missione quella dei docenti e cerco di raccontare ai ragazzi la realtà della cucina grande sacrificio soprattutto e passione diciamo che la passione deve superare il sacrificio perché il sacrificio si fa in tutti i lavori e si fanno tante ore di lavoro ma c'è una grande soddisfazione e c'è un'immensa soddisfazione tutto sta nel trovare la propria strada noi nel non lasciare poi da parte la passione perché poi molte volte secondo me i cuochi che arrivano a certi livelli guardano un po troppo ai riflettori alle luci e il piatto va un po a perdere di una passione personaggio secondo me a volte può succedere ci si può mettere su una strada dove si perde un po il filo di tante cose che ci avevano fatto iniziare la foto che stiamo vedendo e fa parte sempre di queste ricette un'altra cosa queste ci sono sempre le ricette che guarda ce l'hai lì sempre guardo indietro vedi che c'è scritto per il ripieno di salsiccia che poi è scritto perché tu giustamente da dove sei seduta riesci a leggere fila giù sì certo ok no vabbè perché io le conosco questo è un italiano poi arcaico sicuramente la conosci pure però per me proprio vedo solamente questo è un italiano è un italiano arcaico perché se tu vai a guardare proprio a leggere le ricette della nonna non è semplice io certe volte però avendo lavorato in archivio avendo studiato negli archivi per tre anni ho imparato proprio a leggere questo tipo di scritture sono un'appassionata di storia proprio del soprattutto del food e quindi lavoro su 150 ricettari storici d'archivio dalla cucina dell'antica roma fino al secondo dopoguerra sono abituata andare a decifrare anche questi questi testi e quello della nonna è stato il primo testo storico che è arrivato nelle mie mani sono dei quaderni sui quaderni guarda purtroppo no sono vari pezzetti di carta perché lei prendeva i fogli e ci scriveva ci scriveva poi o dei piccolo blocco però siamo già in epoca successiva queste sono quelle più antiche e addirittura non te l'ho portate ma ci sono le ricette arrivate poi dalla bisnonna tu quando sei partita da mergellina a molo bevere sono andata via da napoli che avevo 12 anni è stato un andare via voluto anche un po da mio padre che era un dirigente della maya teter pillar e ha voluto che ci sposta che lo spostassero a su roma per farci crescere a roma a roma centro proprio che era il nordico della famiglia preferiva spostarci gli studi li hai continuati qui a roma continuati a roma e ti dico che è stato un cambiamento epocale perché io venivo dalla scuola privata delle suore andavo dove dove andavo in divisa da sanguinis cristi e quindi era una scuola dove andavamo in divisa eravamo tutte la mia famiglia una famiglia militare quindi il fatto della divisa è una cosa che ritorna sempre quella che hai portato e dopo vediamo bene i dettagli e quindi siamo andati via che avevo 12 anni e ho fatto l'ultimo anno di scuola nella scuola statale e non ero molto preparata dove che zona di roma vabbè quindi sei già capitata sì perché comunque loro mi hanno sempre voluto un po proteggere mi hanno voluto far crescere a roma hanno voluto far crescere in un quartiere di roma che di roma nord e quindi sono stati molto attenti a tutta la parte di chi mi stava intorno ecco molto protetta poi però sono andata al liceo artistico sono un po sfuggita di mano sono un po sfuggita di mano ai genitori mia sorella no perché lei è rimasta in zona io sono andata un po liceo artistico e dal liceo artistico dove c'è liceo artistico a piazza mancini che comunque ecco però è un liceo artistico che era tranquillo però lì comunque conosce il mondo è un integrato più alternativo stiamo ascoltando una canzone questa è mille giornate di me cosa rappresenta questo è i primi fidanzati i primi fidanzati i primi fidanzati cioè soprattutto uno però non diciamo non diciamo il nome però il primo il primo che mi ha fatto soffrire il primo che mi ha fatto soffrire perché uno si ricorda solo di quelli che fanno soffrire è proprio disegno però sono quelli che ti fanno soffrire però poi alla fine li ringrazia anche perché se non avessi sofferto con il secondo io la sofferenza nella vita risparmiata ogni tanto sento dire sì però se tu non avessi fatto questo io ma perché io me la sarei risparmiata sarei andata direttamente alle cose belle no no servono 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 le ferite servono sì sì tu sei sicura a proposito di ferite abbiamo una foto ma la facciamo vedere un'altra un pochino a proposito di ferite tu mi hai portato io una foto di uno spettacolo uno spettacolo che si chiama ognuno metto quello che ha e io sto con questo coltello così perché ero l'assassina quello quello spettacolo con questo penso che tu fai altre cose insomma sì sì poi ne ho portato uno perché sai che noi chef giriamo con valigette pietre di coltelli e attrezzature io ho tantissime pinze tantissimi attrezzi tutti gli effetti puoi portare in giro noi possiamo andare in giro perché se mi fermano forse i capi mi hanno fermato eh immagino però ho dovuto tirare fuori la giacca e dire io sono basta la giacca per dire io sono no vabbè poi dipende da chi ti ferma dipende da chi ti ferma una custodia speciale chiaramente sì c'è una valigetta che noi ci portiamo quando andiamo in giro nelle cuci perché io sono vado sempre in giro sono sempre in tour quindi devo portarmi anche delle mie attrezzature ovviamente cerchiamo di non portarle quando dobbiamo prendere l'aereo perché sennò devi imbarcare vorrei far capire alle persone che sono a casa io ho una manina insomma la mia manina importante questo è quello più leggero questo è più leggero infatti è leggero però è e questo sarà 22 23 centimetri quant'è eh sì questo ebbè sì diciamo che il mio amico è più pure sì sì è una calibro vedo con i miei piedi che sono 42 poi vedi che sopra c'è il mio nome perché questi mi sono stati regalati questi solitamente a fiducia io ti credo che c'è il tuo nome ecco infatti vedi a fiducia c'è il mio nome che mi sono stati regalati da un'azienda che ho rappresentato per un po' di tempo e mi hanno preparato i coltelli appositamente così ho tutta la serie che ovviamente non ho portato se no con questo coltello cosa si taglia perché io per esempio sono una che non stessa molto attenta quando c'è taglio tutto con tutto la scelta del coltello è fondamentale questi sono coltelli che vengono utilizzati anche soprattutto per per non rovinare vedi che c'è un passaggio d'aria quelle quelle scanalature fanno passare dall'aria e quindi per non rovinare ciò che si va a tagliare assolutamente le dita devono rimanere piegate perché questo è un coltello poi di lama giapponese quindi è molto molto tagliente questi sono coltelli che io faccio usare anche i miei allievi con molto piacere perché loro li guardano con tanta ammirazione e io li faccio usare e li presto perché loro si devono abituare subito a saper scegliere il coltello e a saperlo utilizzare bene e poi tutti quanti si appassionano perché in realtà noi non guardiamo tanto l'anello il bracciale a parte le scarpe che sono la mia passione infatti ti ho portato anche le scarpe che adesso andiamo subito adesso ne prendo una e la tengo con me però diciamo che tutti quanti vanno a comprarsi con il coltello personale poi rosso sul rosso forse si vede poco è una cosa un po' natalizia guarda prendi tu una una scarpa così su di te che sei nero ti si vede meglio ecco ecco che bella che questa scarpa tu chiaramente hai un piede da scenerentola io c'ho un 38 anche 39 perché gli stivali solitamente sono 39 come mai hai portato queste scarpe cioè a parte che sono bellissime come mai allora sono delle scarpe che insomma sono un po' natalizie diciamo così e alla puntata ci stavano sono scarpe di colore rosso sappiamo che le scarpe di colore rosso ci ricordano anche una causa importante la contro la mattanza di colore perché ormai è diventata una mattanza a tutti gli effetti uno due al giorno uno due al giorno e quindi non si può più sentire di femminicidi perché diciamo che il problema è questo volevo anche ricordare questo aspetto che è sempre molto diciamo richiamato all'attenzione anche se poi queste cose sono da gestire a livello legale ed è molto molto complicato anche nella gestione penso perché purtroppo si sentono queste cose che succedono sempre e sono delle scarpe che rappresentano anche la mia passione secondo te prima accadevano lo stesso ma non se ne parlava oppure è un fenomeno in largo sviluppo adesso e più si va avanti e peggio è cioè ogni giorno veramente diciamo i social che enfatizzano nel senso che accadono le cose però col social diventa dominio pubblico e da un momento all'altro arriva a chiunque quindi sembra ancora più importante se ne parla di più come in tutte le cose ci sono i mezzi di comunicazione che ne parlano magari prima succedeva ma non arrivava la notizia o non c'erano i social dove tutti andavano a leggere quindi ovviamente si sa tutti più fuori di testa le famiglie non sono più le famiglie che avevamo il nonno e la nonna che abbiamo visto sono delle famiglie che sono già a prescindere sono sono malate tra virgolette e quindi secondo me è per questo che succedono molti più molti più casi poi le notizie arrivano e quindi c'è un'altra foto avete preso questa bene qui devo citare un pizzaiolo perché avevo lavorato a quattro mani perché è tutta la mia la mia cartella stampa e c'è questa pizza che è un'idea che è arrivata dal lavoro a quattro mani con un pizzaiolo che è un pizzaiolo Nino Pannella di Acerra e con cui ho avuto Acerra è il paese di Pulcinella sì eccola ho visto vediamo la maschera e ho lavorato con questo ragazzo che è stato premiato anche con due spicchi gambero rosso un ragazzo di grande valore ma ha voluto fare un percorso culturale che è un po' quello che mi appartiene tanto e abbiamo lavorato su una pizza quadrata dove sono stati inseriti oltre alla parte di formaggio in micro green vedi quelli sono dei micro green abbiamo voluto costruire una specie di aiuola perché poi lui ha questo verde che ritorna all'interno del suo ristorante e perché abbiamo fatto questo piatto perché uno dei primi libri del 1700 sulla cucina vegetariana è del cibo pitagorico i pitagorici erano vegetariani praticamente e quindi mi sono ispirata alle ricette che ci hanno all'interno a questo rispetto per i vegetariani per il cibo sano e abbiamo voluto creare una nuova forma come progetto culturale e lui è di acere acervano è rimasto lì? lui è rimasto lì ma guarda che ci vuole tanto coraggio perché a volte si pensa che ci vuole coraggio ad andare via io sono una che è andata via però col seno di poi dico ci vuole coraggio a restare sì e a fare qualcosa nella propria terra assolutamente ultimamente è andato a Mattarella da Cerra e lui ha donato una pizza e devo dire che ho trovato delle persone fantastiche ho ritrovato anche un po' quello che io avevo perso perché venendo a Roma ovviamente non ho vissuto Napoli nel profondo cioè io da Cerra non c'ero mai stata i miei genitori non è che diciamo ma andiamo e quindi ho apprezzato anche molto la sua brigata e che a Cerra e i tuoi genitori non ti ci portavano non mi facevano entrare nemmeno il mio paese sono di Poggio Marino ma manco i quartieri spagnoli mia mamma diceva no all'anno proprio no ma poi ci sarei andata dopo i quartieri spagnoli sì mi ha portato un mio carissimo amico qualche anno fa perché ha detto no Fabri io ti devo far vedere i quartieri spagnoli perché a me è possibile che tu sei da fuori età cioè che quando dico alle persone andate a Napoli la prima cosa che dico è andate a vedere i quartieri spagnoli e Cristo velato proprio la tappa obbligata San Gregorio Armeno poi di questo periodo con tutti i pastori è bellissimo con il senso di marcia nuovo eh sì però diciamo adesso parliamo di un po' di anni fa non era proprio così era meno però era sempre molto frequentato e poi ci sono tutti i percorsi culinari che mando a fare che adesso non dico che però ce li mandi sì sì perché eh come ti dicevo e come sai per me la cucina è importantissima la amo da morire poi dico magari uno va un solo giorno va tre giorni a Napoli allora puoi assaggiare perché a Napoli c'è la pizza buona ma ci sono anche tante altre cose certo non devi andare per forza nei ristoranti importante per mangiare bene ci sono delle vettole a Pozzoli ai Campi Flegrei lo dirò fino alla Nausea ci sono dei posti lì dove si mangia è un altro è un altro sapore lì è l'autentico il sapore autentico il sapore autentico secondo me è nelle famiglie il ragù autentico io sono sai che ho vinto una gara di ragù? ossaccia ho vinto una gara di ragù non lo sapete ho vinto contro un cuoco quindi non faccio nomi non dico niente e lui aveva fatto la genovese io avevo fatto il ragù ma io ero vantaggiata perché il ragù che deve cuocere otto ore quattro ore il giorno prima ho fatto quattro ore il giorno dopo ha riposato tutta la notte l'avevo fatta a casa pipiava pipiato c'ho le foto tutto si è sporcata tutta la cosa diffidate delle persone che non sporcono i fornelli quando andate a casa delle persone con i fornelli puliti e dicono che hanno cucinato è una bugia è vero no? sì magari hanno pulito prima no? no non ci credo io a questa cosa tutto preciso preciso dopo ne parliamo ne parliamo subito dopo la pubblicità va bene Bentornati alle Migrante io sono Giudi Sarno questo è sempre Cusano Italia TV 264 del digitale terrestre sono qui a parlare di ragù con la chef designer di Genovese di Genovese Fabrizia Ventura e mentre andava alla pubblicità appunto si parlava del del fatto che quando i fornelli non si sporcano lei diceva forse ha pulito i fornelli e io dico ma forse ha comprato il rossicceria forse c'è una mamma che porta forse c'è una zia che porta un parente oppure c'è un parente chef che gli porta oppure uno è pulitissimo ha la casa sempre pulita pulita di fido non sono molto ha studiato l'HCCP alla perfezione vediamo questa foto le mie mani è la pinza pinza di tutti i tipi per stare attenti ad ogni piccolo elemento che viene messo all'interno di un piatto alla sua posizione questo potrebbe essere un entrè? si questo era un cracker per me dodici grazie quando mi portano questi tipi di entrè io dico bene va bene dodici puoi scolare si è proprio per aprire lo stomaco che già solitamente è aperto però noi facciamo tutte queste cosettine c'era una persona con cui lavoravo agli inizi che mi diceva ecco le stupide agginine di Fabrizia Ventura perché io facevo sempre tutte queste cosettine però andavano al ristorante venivano richieste in realtà poi le ha chiamate anche in un altro nome però non voglio stare a volerle le cazzatelle le cazzatelle si è venuta a fare le cazzatelle il finger comunque ha un grande successo in tutte le tavole e in tutti i buffet ah soprattutto i buffet quelli in piedi che si usa molto questi sono l'ideale perché puoi mangiare insomma con un solo boccone anche soprattutto per le signore per non togliere il rossetto ma poi si assaggiano tante cose quindi secondo me ha una funzione anche di degustazione di tante cose altrimenti non si potrebbero fare in altro formato io ti avevo chiesto al telefono qualche giorno fa se davamo un suggerimento visto che mancano due giorni a Natale per vogliamo dare un suggerimento per la vigilia o per il Natale io dovrei per la vigilia che dici? sì per la vigilia io sono più legata alla vigilia anche io perché invece vedo che al nord pesce assolutamente pesce io il consiglio che voglio dare è di non fare voli pindarici nelle cucine ma di attenersi secondo me soprattutto in questo periodo alla tradizione cioè io questo è il periodo in cui secondo me si ritrovano degli aspetti che si perdono un po' durante l'anno perché si ritrovano le famiglie e si ritrovano quei gusti delle nonne quindi perché andare a fare piatti che non ci rappresentano le sperimentazioni per favore però piatti che non ci rappresentano non rappresentano la nostra famiglia quindi succede così io racconto quello che succede a casa mia perché solitamente cerco di trascorrere il Natale almeno il Natale perché non ci sono mai a casa dove lo trascorrerai? dove? a casa tua proprio? nel mio casale dove arriveranno un po' di persone e degli amici in vari momenti delle feste perché tu ti sei trasferita poi hai fatto un altro trasferimento ho fatto un altro trasferimento dove sei adesso? adesso sono a Rieti a Rieti hai una casa bellissima ogni tanto posti qualche foto qualche scorcio e da lì si vede il mondo la Valle Santa sono legatissima a Rieti mi sono innamorata di Rieti è una città bellissima ho trovato tante fantastiche persone lì e sono proprio legata non l'ho mai capito perché è una città di cui io mi sono innamorata in realtà mi dicono tu sei una mergellina e poi te ne vai in montagna e invece sì perché forse io amo i cavalli, i cani e quindi è una mia dimensione stacco da tutto hai anche le galline? ancora no però le vuoi mettere? sicuramente fai il pollaio con le galline dopo fresco i cinghiali mi passano accanto quello pure a Roma noi ce l'abbiamo adesso non vorrei dire ma insomma non abbiamo niente da invita in quanto a cinghiali siamo proprio qua forse ne hai più tu che io probabilmente sono arrivati tutti su stavamo dicendo del menù da consigliare io dico le cose classiche della nostra tradizione delle nostre famiglie di riprenderle e di farle magari in un formato un po' più meno classico in modo tale da il menù d'amore o il menù di libertà com'era? ecco io propongo questo menù d'amore e di libertà perché essendo una famiglia paracrasando decrescenzo decrescenzo parlava di queste due tipologie di uomini l'uomo d'amore e l'uomo di libertà l'uomo d'amore è il napoletano il partenopeo è quello che si fa il bagno nella vasca e invece l'uomo di libertà è quello milanese che si fa la doccia presto presto quindi io proporrei d'amore la ricetta cioè un bello spaghetto a vongole ma non fuiute perché alla vigilia ci vogliono veraci con il pomodoro del pienolo il pomodoro del pienolo del vesuvio che sia del vesuvio io sono vesuviana quello vero perché con la terra con i lapilli no la terra del fuoco è un altro sapore quella sapidità e poi ovviamente come non prendere un capitone così e lì ritorniamo sempre a così parlò bella vista e decrescente la storia del capitone magari la parte del menù di libertà io la farei con dei formati appunto finger cioè riprendere la tradizione ma riportarlo in vari assaggi in modo tale questa grande mangiata questa settimana di mangiate diventa più leggera diventa diciamo più elegante ecco l'eleganza è una cosa che io a tavola porterei sempre la cultura sta nella tradizione e questa rivisitazione di libertà è un e poi ci va lo struffolo il rococò il mostacciolo ma questa è la mia tradizione poi ovviamente l'Italia è un paese ma sai che la tradizione partenopea piace tanto si piace molto fa molto Natale questo struffolo fa molto Natale in casa Gupiello e quindi vedi Edoardo si è tornato in grande moda io ho fatto tutte e due presepe e albero sempre sempre perché l'uomo di libertà fa solo l'albero e invece mio figlio fa il presepe da sempre noi andavamo a Stancancore a me a comprare anche le tegoline per fare le case adesso che è più grande quest'anno non l'avrebbe voluto fare a vent'anni però ho detto vabbè ma che faccio non lo faccio c'è Anna perché Anna è la nipotina la figlia della nipotina quando ci sono i bambini e Natale ha un altro sapore proprio e anche il regalo abbiamo fatto molto tutto per questa bambina con la scusa della bambina abbiamo fatto la bambina verrà a casa due ore però abbiamo organizzato allestito tutto c'è tutto c'è tutto quando loro erano piccoli ho fatto tutte queste cose e quindi questo imprinting è rimasto ad esempio mia figlia magari è più da presepe da albero infatti abbiamo fatto l'albero mentre lui faceva il presepe mio nonno faceva un materno faceva un grandissimo presepe di tre metri e mezzo c'è una grandissima tradizione il nonno napoletano con anche una parte di Scozia perché c'è anche la Scozia in questo mio percorso mi sembra giusto qualcosa dovevo mettere e c'era questo grande presepe io ho ripreso questa caratteristica del fare il presepe mi piace tantissimo da piccola giocavo con i Lego quindi Natale tradizione Natale tradizione per favore tu mi hai portato dei disegni sì mi piace molto vedere quello il primo il primo sì perché questo è un progetto che tu hai fatto per poi fare il piatto e dovremmo anche averlo in foto se non è quello questi sono i miei bozzetti lo prendi tu perché sei scura e su di te si vede meglio ok questi sono i bozzetti che vengono realizzati prima di fare un piatto è uno studio preliminare proprio come fanno gli artisti nelle sculture ed è l'idea di un piatto per vedere come vengono assemblati gli ingredienti e i colori e soprattutto quello che si che si può vedere fin da subito è già come la vista dell'insieme la parte estetica può funzionare o meno come gli alimenti vengono messi all'interno del piatto ci sono delle regole per mettere gli ingredienti e anche la forma del piatto si sceglie infatti dicevo anche la circonferenza no? si perché si sceglie il piatto piano ci sono tanti formati di piatto si studia proprio come mettere le cose all'interno del piatto giusto questo è quello che un po' insegno ai giovani allievi che ho e ai tanti ragazzi che ho e poi si scrivono i vari ingredienti e quello che deve essere messo e questo serve anche quando si va a fare un impiatto dove non è solo lo chef ad impiattare ma c'è tutta una brigata che deve fare l'esecuzione di tanti piatti immagina di 300 piatti quindi si fa un briefing iniziale cioè questo bozzetto lo vedono tutti e sanno esattamente qual è perché è una catena di montaggio poi ecco qua c'è un altro questo è proprio primavera? questo mi è stato richiesto perché poi ci sono le aziende che richiedono attraverso l'associazione che rappresento l'associazione professionale Quaghi Italiani è un piatto che mi è stato richiesto per la rivista ufficiale nostra e sono degli gnocchetti di patataviola ed era un piatto per San Valentino quindi ho pensato a qualcosa che doveva essere anche diciamo gradevole ho messo il gambero rosso di Mazzara che adesso va tantissimo ovviamente febbraio tu pensi che cosa può andare quel periodo c'è un pomodorino giallo e ci sono degli asparagi poi c'è la tartare c'è la doppia consistenza del gambero cioè sono dei piatti che devono essere realizzati per poi non per una cena normale ma poi per essere fotografati e pubblicati quindi abbiamo il piatto che si fa in cucina il piatto che si fa per un ristorante da 20 persone quello che si fa per 300 c'è un mondo dietro da scoprire e qui arriva la parte di progettazione che mi rende proprio partecipe della realizzazione di tante cose bellissime io poi ho gli occhi lucidi quando parlo di quello che faccio si vede? mi sono animata a parte che hai degli occhi bellissimi solitamente qui si questo salotto si piange quando si parla di un genitore che non c'è di figli tu ti sei commossa adesso in questo momento ti vedo proprio con l'occhio hai degli occhi bellissimi questo lo sai te lo dicono tutti sui social questa donna dicono ma c'è il filtro e il colore degli occhi no 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 sono proprio così anche a me spesso dicono hai le lenti perché ho un colore anche strano perché ormai la normalità è arrivata il filtro ma in realtà non c'è un filtro anche perché ma anche da vicino non è solo i filtri anche da vicino sono delle lenti a contatto colorate allora quando uno è autentica quasi ti devi giustificare che sei autentica che devi incontrare lo zi come il mio il naso è mio la cosa è mia gli occhi sono i miei vabbè non fa niente meglio il dubbio poi cambiano a seconda del tempo e quindi la dicono ti sei cambiato il filtro invece hai portato un cappello sì è la TOC questa è la TOC che noi usiamo nella nostra divisa ufficiale anche sulla divisa vedi è un qualcosa che per noi è molto prezioso è come un carabiniere che ha la sua divisa il suo cappello e ci teniamo tanto perché andiamo a rappresentare proprio questa società come lo fissi in testa? è un cappello normale cioè questo che dà la possibilità non è scomodo non lo senti più quando ce l'hai addosso non lo senti più si dà un pochettino la forma e poi si indossa guarda che bellezza si che bella si non lo senti più no non lo senti più quando lavori non lo senti perché poi ovviamente noi stiamo sempre con il capello legato certo perché dobbiamo essere precisi e adesso lo posso levare si ti è concesso e questo è il cappello nostro ufficiale dell'Associazione Professionale Qualchi Italiani qui invece? questo è il cappello che portavo quando ho lavorato a Torino da Davide Scabin e questo è il cappello che mi ha voluto firmare quando me ne sono andata prima è qua perché prendo la freccia che bisogna girare sono molto legata a questo cappello per il percorso che ho fatto con questo chef che ringrazio per tutto quello che mi ha insegnato per la vicinanza per la crescita professionale che mi ha fatto fare perché lavorare al pass in cucina a stretto contatto con chef che hanno una carriera alle spalle straordinaria che ha riconosciuto come il genio della cucina italiana è una grande fortuna io l'ho vista come una fortuna un'opportunità di crescita e lì mi sono confrontata proprio con la mia passione con quanto veramente volevo fare tantissime ore di lavoro tantissima dedizione e questo è una cosa che mi porterò dentro tutta la vita e soprattutto per quello che lui mi ha detto poi sul mio lavoro sulla mia professionalità adesso mentre tu parlavi mi è venuto in mente che a Ottaviano c'è una importante c'era adesso non so se c'è più ma penso di sì importante scuola di cucina alberghiera e uno dei miei fratelli ha frequentato i tre anni la pensa me l'avevo rimosso una squadra quindi uno dei poi ha fatto altro però e mi ricordo che sperimentò il cetriolo fritto è la cavia questa ragazza che voi vedete una bambina mi ha fatto mangiare il suo cetriolo fritto che era qualcosa di disgustoso però era tornato era piccolita insomma eravamo piccoli abbiamo sette anni di differenza torno a casa tutto contento che aveva fatto questo esperimento che foto è? l'ho vista è una foto è una serie di foto che ho fatto per fare la brand ambassador a chi ha realizzato questo fantastico anello che poi so che conosci anche tu salutiamolo mauro carrazza mauro carrazza questo anello che ha anche una casa anni cinquanta meravigliosa a Viterbo no a Capranica a Capranica e io l'ho vista quella casa pensa in costruzione una cantina scendi sotto e trovi il mondo è una figura è troppo figo lui e poi adesso fa gioielli da un po' faceva i tappi lui ha iniziato con i tappi per il profumo per un'azienda mi pare francese e poi invece sui gioielli anche molto Alba Parietti usi sui gioielli li porta lei e abbiamo realizzato e qui ha fatto una forchetta ha fatto una forchetta perché ho detto perché non mi fai un anello proprio per me e sarà partito una forchetta quella è una forchetta vera è una forchetta vera che è stata proprio forgiata sulla mia misura prende due dita gliel'hai data tu la forchetta? no no ho fatto tutto lui io di lui ho un quadro una composizione con sei cucchiaini d'argento ce l'ho a casa in cucina mi piace questo regalo e poi anche una botte mi ha omaggiato di varie cose è molto bravo ed è un artista di sentimento spero di averlo qui sicuramente è di sentimento vedi è d'amore è d'amore non è certo sarà anche di libertà però insomma è molto di amore assolutamente che foto è questa che vediamo? questo è un salmone ecco un salmone marinato con salsa jutsu è una ricetta che uscirà anche a breve su una rivista in Canada è un diciamo un fiore di salmone che viene tagliato con diciamo la forma di un parallelepipido parallelepipido e abbiamo questa salsa che viene versata nel nel piatto in un secondo momento e ha anche una marinatura fatta con la polvere di caffè è un modo nuovo insomma per assaggiare il salmone per avere un qualcosa di vegetale ma è un peccato mangiare quel piatto non lo tocco andiamo avanti con le foto così guardiamo altre cose ecco qui dove sei? qui sono al lavoro con le mie allieve del Safi Ellis e sempre lì? sì perché guardo dietro perché è più grande sono insomma delle ragazze fantastiche e sono come le mie figlie o i miei figli i miei allievi sono i miei figli io non ho figli forse però c'è una foto che dice che non hai figli ma hai un affetto molto importante dovrebbe arrivare immagino non so se immagino è quel personaggio che dovevamo portare anche in trasmissione eccolo doveva venire in trasmissione allora questi sono Gennaro e Filomena sono i miei mastini napoletani due nomi del nord Gennaro e Filomena Gennaro è quello frontale e invece Filomena è quella quella un po' di profilo Filomena ha otto anni se mi è salilato con la gambetta così Filomena è un po' tiene una cazzimma esagerata è proprio napoletana forte ma anche lui da insomma ha due anni Gennaro pesa 100 kg lo chiamo Gennarino io la prossima volta te lo porterò in trasmissione io guarda l'accolgo se vieni a trovare con Gennarino lui si mette qua dove è nato Gennarino perché vediamo se può essere un ospite Gennarino è nato esattamente a Gragnano a Gragnano Gragnano vino buono la pasta buona fa parte dell'allevamento dove io prendo praticamente tutti i mastini che prenderò nella mia vita perché ormai quelli sono i cani di casa che è della rupe ed è nel Lazio però i cani vengono anche dalla campagna il sangue è quello lì e sono dei cani eccezionali cioè lui non beve acqua beve vino grosso di Gragnano Gennarino mangia 4 kg di roba al giorno più in meno e sono uno spettacolo da vederli da viverli ecco gli occhi si sono illuminati con Gennarino devo dire anche io quando l'ho visto la prima volta sulla foto era più piccolo c'eva questa faccetta che si vedeva anche se è già ma lui è veramente un personaggio io penso che sia assolutamente che deve fare la mascotte da qualche parte perché ha uno sguardo incredibile poi i cani parlano per me quindi guai che vi tocca gli animali ci pensi mai al fatto di non avere un figlio? ci penso ci ho pensato totalmente tanto che ho fatto la fecondazione assistita e l'ho fatta per sette volte per tanti anni è una cosa che non è andata a buon fine e ho capito in un viaggio in Africa che non era necessario vedendo quei bambini rincorrere questa cosa e guarda caso poi nel momento in cui ho deciso di non continuare poi ho deciso invece di sviluppare la parte professionale per questo che sono sempre in movimento e lavoro e poi sono arrivati tutti i ragazzi che ho come allievi quindi mamma di tanti ragazzi sì e ti dico che mi dedico a loro quando ce l'ho proprio come ognuno cioè ognuno di loro dedico del tempo cerco di capirlo cerco di entrare nella sua testa penso che abbia tantissimo valore il fatto che io non posso avere i figli e devo secondo me la mia missione esatto stavo dicendo evidentemente la tua missione è questa è diversa l'ho presa proprio come una missione anche perché quando un bambino di 4 anni 5 anni in Africa in un orfanotrofio ti prende per mano e ti dice perché sei triste lui non ha niente da mangiare io mi sono sentita veramente una nullità e ho detto non è giusto che io sto male perché non ho un figlio hanno bisogno forse di me in un altro modo altre persone e quindi mi dedicherò a loro in un altro modo e quindi tutto quello che io ho imparato nella vita imparo tutti i giorni cerco di trasmetterlo ai ragazzi anche ciò gli obiettivi a cui non arrivano ce ne saranno poi sempre altri da raggiungere io sono felice di aver raggiunto degli obiettivi ce ne saranno sicuramente altri adesso è in uscita un libro che sto scrivendo la vita è pienissima di cose anche importanti non è piena di fuffa è una cosa costruita a piccoli passi a piccoli passi perché ogni passo è un passo che io vado a capire qualcosa in più un tassello in più della mia vita non è niente di predestinato è tutta una costruzione è come un lego io giocavo con il lego da piccola come faccio il presepe costruisco le cose faccio anche così con la mia vita e sono anche i ragazzi che mi fanno crescere mi danno valore quindi è uno scambio che foto è quella che vediamo? ecco qui è un quadro questi sono proprio i miei colori sì sono anche i miei perché io ho tutta la casa tutta così lo so perché tu sei come me un'appassionata di ceramiche e io metto i colori che si ritrovano nella ceramica soprattutto la ceramica della costiera amalfitana sono un'appassionata sono i colori che uso di più il giallo il blu che poi il blu nel colore alimentare sono tutti gli effetti un quadro guarda sì perché qualcosa quando mi chiamano a fare gli shukuki io uso questa cosa del fare l'action cooking painting l'action painting era una forma di azione pittorica io invece faccio l'action cooking painting utilizzando un quadro dipingendo sul quadro sempre con colori alimentari e poi mettendo il piatto e gli stessi colori e mettendo sempre quasi le ricette che mi richiedono hanno un senso anche storico e culturale qui ci sono due ricette del secondo secolo secondo e terzo secolo dopo cristo è una crema è una crema di piselli vitelliana quella parte che è una crema proprio il nome deriva dall'imperatore vitellio e è fatta con il tuorlo d'uovo sodo e quello è una crema di riso che ho riproposto anche in altri eventi all'interno c'è il garum che è questa salsa questo condimento degli antichi romani su cui ho lavorato diversi anni per la realizzazione di ricette anche con un altro collega chef io sia amici e un ricercatore che è arrivato siamo arrivati alla ricostruzione dell'autentico garum romano ed è stato presentato a Cibus Parma da un'azienda che adesso l'ho messo in commercio per questa azienda adesso sto realizzando un libro di ricette come distribuisci la tua giornata? cioè no perché con tutte queste cose che fai anche proprio di ricerca ci vuole tempo oltre che testa quindi devi avere una giornata proprio organizzata sì è una giornata fatta di movimenti vari quando sto intanto a che ora ti alzi? prestissimo mi alzo alle 6 oltre alle 6 non riesco ad andare quando avrai le galline le andranno a svegliare tu io solitamente sono quella che sveglia la sveglia dico io mi sveglio e sono già sei sveglia esatto e quindi inizio quando posso quando posso rimanere ancora a letto inizio proprio studiando cioè mi apro delle cose mi rivedo i menù che quello è il momento secondo me più alto di concentrazione che sia quindi lì è la parte dove devo studiarmi delle cose devo costruire i menù poi c'è la parte quando sto a casa ma non ci sto mai a casa dedicata cioè ti farei questo bagno o questa doccia no? prima di... vabbè quello è normale penso vabbè che sono una donna d'amore nel senso che ci vuole tempo anche per fare quello lì sono una donna di libertà nel senso che faccio la doccia non il bagno non me lo dedico ti truccherai poi sei molto femminile i tacchi il trucco sì questo ci tengo tanto ho fatto un corso di trucco io non amo il rossetto rosso invece ho visto che tu ami il rossetto rosso anche in altre foto ti vedo spesso con il rossetto rosso sulla tua carnagione ci sta bene sulla mia forse meno ho stata una carnagione nordica ma tu sei io una scozzese e quindi ti truccherai ti preparerai mi trucco mi preparo a seconda di dove devo andare e preparo la valigia perché ogni volta che mi esposto porto una valigia di 2-3 giorni perché poi torno a casa c'è anche valigie diverse c'è quella con le attrezzature quella che c'ha dentro le divise non una ma e siamo arrivati a che ora? no anche la notte lavoro e la mia giornata non ce n'è una quella all'altra perché oggi ho tre cose da fare domani e poi quando mi fermo faccio le cose che sono da fare al computer che sono da fare e che poi uso sempre il telefonino perché lo uso anche quando sto ferma al semaforo e ci aumento ma una come te quando ha fame ed è in giro cosa fa? cioè tu fai come nei comuni mortali ti fermi in un posto e mangi anche una pizza con la mortadella che è buonissima però dico una cosa veloce oppure? no noi chef non abbiamo orari non abbiamo mangiare normale eh e quindi ci sono giorni ti porti il termosso no no io non mi porto niente salto cioè salto io sono una che ha anche 48 ore posso non mangiare quando sono impegnata in cucina o su una cosa io non sento fame non sento freddo cioè io devo portare quindi non succede mai che ti fermi un posto e dici devo mangiare un toast perché mi sento male mi sento svinire mangio un toast o piuttosto mi mangio una caramella perché fermarmi a caso no fermarmi a caso proprio no cioè il toast non lo mangi diciamolo proprio il toast non lo mangi no stavamo sentendo una canzone prima che canzone è? non sono riuscita a sentire eh questa con gli acufeni io non sento niente eh Mulle a cielo questa è Vacanze di Natale 83 è un film storico è la nostra colonna sonora colonna sonora e rappresenta ma tu li vedi mai i film quelli? poi tutti i Natali tutti i Natali mamma ho perso l'aereo quella roba no quello no quello no io sì ma anche quello no mamma ho perso l'aereo no percorso quei ragazzi quindi è un altro no io ho più questo che mi ricorda insomma un periodo degli anni 80 che sono stati fantastici quindi questa è proprio quella che ti acce quando vai in montagna quando vai a sciare le settimane bianche e tu vai anche a sciare ho smesso ho smesso riesci a fare questo pensavo quando riesci a fare questo no c'è stato un periodo in cui ho fatto in realtà non ho scio ho fatto snowboard e l'ho fatto anche con un insegnante d'eccezione che è Marion Posh però poi ci siamo guardate ho detto ma forse Marion mi vado a prendere qualcosa un limoncello un viaggio più bello qual è stato il tuo viaggio più bello? il viaggio più bello è stato quello a Zanzibar che era un viaggio turistico ma poi si è rivelato un viaggio di vita quindi penso che quello sia il più bello della mia vita che mi ha fatto proprio cambiare sono tornata cambiata vediamoci una foto che foto è? questo è un piatto che è stato realizzato per sempre San Valentino a me mi fanno fare queste cose ed è l'uso della tridimensionalità delle forme geometriche e la costruzione di un piatto che è un piatto in verticale è un lizzo di un anello ma questi sono sempre come portare il crudo a tavola questi piatti dove c'è tutto questo pesce buttato un po' così questo è un altro modo per portare un gambero rosso di manzara e le ostriche che sono con questo riso venere condito con white Fabrizia io ho sentito un campanello in lontananza il nostro tempo a disposizione purtroppo è scaduto un'ora e volato con te e hai portato tante cose bellissime e spero di riaverti sembra un po' banale per chi lo dico a molti ospiti però la vita di tutti è talmente piena di belle cose e quando uno ti porta da un coltello alle scarpe a un progetto per fare un piatto non puoi che dire ci dobbiamo rivedere quindi io ti auguro un buon Natale grazie mangia con moderazione cucino con moderazione cucina con moderazione anzi non cucina fai cucina gli altri ma che scherzo no 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 tu cucini tu e ti auguro tante cose belle per questo 2023 che si sta facendo grazie io auguro anche a te il meglio che ci possa essere grazie grazie io vi saluto e vi do appuntamento a lunedì e alle 14.30 sempre con le emigrante e sempre su Cusano Italia TV un bacio da Gio Di Sarno e Buon Natale Buon Natale